Esistono delle missioni particolari tra i mistici. I mistici non tutti hanno la missione di parlare di tutto, quindi non a tutti viene detto tutto. Ammesso e non concesso che non siano strumentalizzati dai sacerdoti che gli dicono questo puoi dirlo, quest'altro meglio che non lo dici, questo va bene, questo no, perché si discosta dal dogma di fede e alcune volte è successo e succede. I sacerdoti abbiano le guide spirituali, abbiano appunto il controllo dei messaggi che vengono divulgati dai veggenti e li fanno rientrare nei canoni. Questo è accaduto e accade. Mi viene in mente un'intervista che hanno fatto e si trova tranquillamente in rete alla bambina, ormai donna, di Civitavecchia dove la Madonnina, mi sembra la Madonnina, aveva pianto, sì. Poi la Madonna mi ha detto anche delle cose che però il mio sacerdote mi ha detto che non le posso dire e per santa obbedienza io non le dico. Come santa obbedienza? Ma santa obbedienza di che? Santa obbedienza se te l'ha chiesto la Madonna, ma non se te l'ha chiesto il prete. Ebbene, lei non le dice e in quelle cose ci saranno, in quelle cose che lei non dice ci saranno sicuramente informazioni che vanno contro il dogma. Quindi, che so, la reincarnazione, oppure cose sconcertanti come la realtà extraterrestre, che non va contro il dogma assolutamente, anzi la realtà extraterrestre è prevista addirittura, non proprio dal dogma, teologicamente è contemplata la realtà extraterrestre. Se ne parla dal 600 d.C., dal 630 d.C., io ho fatto uno studio sulle affermazioni della Chiesa e della gente di Chiesa riguardo alla realtà extraterrestre, il primo nel 630 d.C. è stato un papa, quindi ne hanno parlato, un papa non pubblicamente, in una lettera che ha scritto per cacciare via a un prete che parlava di queste cose, quindi già si era interessato quel papa. E se ne ha parlato tantissimo, se ne parla a volte ipocritamente, perché ad esempio ultimamente ne ha parlato padre Tanzella Nitti, che è un testone, è un grande nel suo ambiente, è un super dottore, è un tutto, è uno di quelli che sanno tutto loro, e perché dico ipocritamente? Perché oggi loro sanno tutto, quindi non puoi venirmi a fare una teologia degli extraterrestri così vaga, dicendo sì perché la possibilità, ma che possibilità, che sanno benissimo che il papa Giovanni XXIII li ha incontrati gli extraterrestri a Castel Gandolfo, cioè oggi le sanno le cose, quindi se non le dicono è perché non le vogliono dire, e lì io vedo l'ipocrisia. Ma in altri contesti invece, nel corso della storia, in questi duemila anni, la Chiesa ne ha parlato, ne ha parlato di possibilità di vita extraterrestre, ha parlato addirittura di esseri che se esistono ha fatto le varie possibilità, allora è possibile che non abbiano mai incontrato Dio, come noi che si è incarnato, e quindi non sarebbero colpevoli del proprio peccato, perché non hanno coscienza del proprio... è possibile invece che abbiano incontrato Dio e non l'abbiano crocifisso, e quindi... cioè hanno fatto tutte le ipotesi, e quindi non avendolo crocifisso sicuramente vive in uno stato beato simile a quello dei bambini. È possibile che insomma hanno fatto le varie alternative all'interno della Chiesa, poi che non tutti i sacerdoti sappiano queste cose, lo credo bene perché ai seminaristi non insegnano queste cose, io ho fatto una ricerca di sei mesi e le ho cercate e le ho trovate, loro devono dire messa, devono fare i corsi d'aggiornamento, quelli là, devono fare gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio di Loyola, che io dico Robiola però... sì sì lo so... ecco devono fare queste cose quando non hanno tempo di approfondire certi argomenti, ok, però esistono all'interno dell'ambito teologico queste possibilità ci sono, quindi rewind dove eravamo, ecco, quindi ci sono dei veggenti che non hanno il compito di rivelare certe cose, quindi la reincarnazione eccetera, ci sono dei veggenti che le sanno e avrebbero il compito di rivelarle ma non lo fanno per santa, tra virgolette, ubbidienza al sacerdote di turno, e questo anche a Medjugorje, secondo me c'è qualcosa di questo tipo, ci sono invece dei veggenti che proprio non le sanno, cioè che ai quali non vengono dette queste cose qua, perché altrimenti le direbbero e non sarebbe il loro compito, perché loro devono operare all'interno della Chiesa ad esempio, secondo me Padre Pio è stato uno di quelli che... no, Padre Pio che appartiene all'altro gruppo, cioè quelli che sapevano le cose ma non le diceva perché non era il suo compito, perché a Padre Pio quando hanno chiesto degli extraterrestri, lui è nota ormai, no, la frase, la sua risposta, è che vorresti che non esistessero, quando gli dicono Padre ma dicono che in altri mondi esistono altri uomini come noi, è che vorresti che non esistessero, che l'onnipotenza del Creatore si limitasse a questa piccola terra, che vorresti che non ci fossero altri uomini che lodano Dio? Quindi lui la prendeva come una cosa scontata, è ovvio che ci sono altri uomini in giro, però non era il suo compito fare questo tipo di divulgazione, lui è stato già abbastanza osteggiato direi, dalla Chiesa, quindi dalla sua Chiesa, quindi se avesse detto anche degli extraterrestri ce l'ammazzavano a Padre Pio. Poi ci sono altri che invece hanno il compito di rivelare tutto, Giorgio Bongiovanni che è un mistico stimmatizzato da 30 anni alle stimmate permanenti, sempre, e sanguina più volte a settimana, all'inizio addirittura più volte al giorno, fenomenologia che rientra nell'ambito degli stimmatizzati, fenomenologia tutta, cioè le emografie, disegni e scritte che escono fuori con le sanguinazioni, quindi emografie, immagini che appaiono, sanguinazione dalle lacrime, dalla corona di spine, la croce in fronte, il calice, più volte il sangue che esce a forma di calice dalla stimmata che ha qua sul costato, insomma tutta la fenomenologia degli stimmatizzati Giorgio ce l'ha, quindi un classico stimmatizzato che ha avuto il compito di mostrarsi al mondo, perché lui poteva fare lo stimmatizzato nel letto, ma ha avuto il compito che gli è stato dato da Cristo e dalla Divina Madre, di mostrare questi segni al mondo, e Giorgio Bongiovanni è stato visto in questi trent'anni da più di due miliardi di persone, la stima è questa, più di due miliardi di persone, quindi veramente mezzo mondo ha visto le stimmate di Cristo, quindi il segno è stato visto. Nella sua missione, nella sua opera in questo mondo, c'è anche l'aspetto divulgativo di realtà che solitamente non appartengono all'ambito degli stimmatizzati, ma quindi appunto la realtà extraterrestre, la reincarnazione, conoscenze di questo tipo, che se lui avesse dato ascolto alle guide spirituali della Chiesa non avrebbe rivelato, perché lui ai primi tempi fu avvicinato da prete, vescovo, anche il vescovo mi sembra, insomma fu avvicinato dai personaggi classici, c'è uno stimmatizzato, il prete vuole capire, la curia, la diocesi vuole controllare, vuole sapere, ecco, e volevano appunto controllare, quindi dire questo sì, questo no, questo così, questo cosà, Giorgio Buongiovanni, il leone di Dio, non lo fermi con queste cose, quindi lui ha fatto la sua gloriosa strada, certamente nel massimo rispetto della Chiesa, perché comunque resta la Chiesa di Cristo, Cristo l'ha fondata attraverso Pietro, quindi resta comunque la Chiesa di Cristo, ma ha fatto la sua strada, ha fatto quello che gli ha detto di fare il cielo, non quello che gli ha detto di fare il prete.